Fra i diversi temi affrontati nella riunione dell'Unità di Crisi Regionale sull'emergenza Covid-19 c'è stato anche quello relativo alla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, secondo quanto prospettato dall'ordinanza numero 90. Si è preso atto delle attività di screening che si stanno svolgendo sul territorio e si è convenuto che nella giornata di domani le ASL comunicheranno formalmente i risultati delle operazioni effettuate. Sulla base di questi dati e delle relazioni presentate saranno assunte poi le decisioni in merito alla riapertura delle attività in presenza delle classi scolastiche prese in esame, fatta salve in ogni caso la possibilità per i singoli comuni di decidere in autonomia in relazione a situazioni di specifica criticità eventualmente presente sul territorio comunale. Comuni, molti nel Salernitano, che hanno già prospettato in ogni caso un rivio della didattica in presenza per le materne e le prime elementari. Si proseguirà con la didattica a distanza a Nocera Inferiore, Bracigliano, Tramonti, Baronissi, Mercato San Severino, Castellabate, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, San Valentino Torio, Castel San Giorgio, Rocca Piemonte, Scafati, Sarno, Calvanico, Ravello, Scala. Una lista di comuni nel Salernitano, ma in tutta la regione Campania, che si allunga di giorno in giorno. Varie le date indicate dai primi cittadini di questi comuni, dal 29 di questo mese fino al 22 dicembre, con il sindaco di Pagani che è andato oltre, ipotizzando addirittura come data il 6 o 11 gennaio. Comuni, insomma, che vanno per conto loro con la regione, che al momento sembra indirizzata anch'essa verso lo slittamento della didattica in presenza per materne e prime elementari, e che in attesa di valutare i dati dello screening ha già stabilito, che proseguiranno anche nelle prossime settimane le operazioni, estese sulle fasce della popolazione studentesca di età più elevata rispetto a quella coinvolta finora.